E' un po' tanto, eh? Sembra... sembra un santuario quasi. Dedicato alla gente. Tanta gente. Sono sexy. Ci credo. Cioè, non Gesù. Anche Gesù è sexy. Dirlo non sarebbe peccato. Non lo so. Si è fatto uomo per noi. Un uomo giovane e bello. Poteva mostrarsi donna, oppure mostrarsi vecchio, o mostrarsi con la lebra, invece... Nessuno sa che aspetto aveva. Probabilmente assomigliava a te. Oh, perché... perché... Ebreo. Un ragazzo bello ebreo. Uno come te. Un ragazzo bello. 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 Grazie a tutti